Al Sam James Park il Newcastle ormai sicuro della promozione alla prossima Champions League ospita il West Ham. Alan Shearer stretta di mano, Bobby Robson come al solito spinge in panchina. Si parte con Camuté che serve tipo, il diagonale è perentorio e gli Hammers, i martelli sono in vantaggio all'inizio della partita. Rivediamo lo splendido diagonale di tipo, reazione immediata per le gatte da Robert ad Alan Shearer, Alan Shearer un impasso e subito la botta in rete, gol numero 22 per il vecchio capitano del Newcastle. Rivediamo la sua freddezza, classica per un bomber di razza come lui. Secondo tempo, uscita di testa per James, recupera la palla Robert, il suo sinistro James l'ha ribattuta ma in agguato. c'è lo Zairese, l'UA, l'UA, questa volta Tant, terzo centro in tre partite per l'UA, l'UA, Newcastle in vantaggio poi nel finale. Robert pallonetto sul palo e in due tempi allora Robert mette la firma sul successo dei padroni di casa sul West Ham. Rivediamo il pallonetto prima delicato di Robert che poi in due tempi firma in la 3 a 1.